La futura libertà rilancia il codice etico, è quello approvato dalla Commissione Antimafia anche se molte polemiche e critiche ha suscitato soprattutto per la sua applicazione alle regionali. Come intendete rilanciarlo? Noi lo rilanciamo alla luce di una valutazione preventiva su quelle che dovranno essere le prossime candidature. Io sostengo che siamo ormai alla mancanza di una linea netta di demarcazione tra quella che è l'area legale e quella che è l'area illegale nel nostro paese. Che succede se un vostro alleato viola il codice etico nella formazione delle liste? Noi facciamo appello a che l'alleato rispetti il codice tenendo conto che lo stesso codice è stato sottoscritto e approvato all'unanimità. Siamo convinti che forse la presenza di un governo tecnico richiami proprio il mondo politico a quella responsabilità necessaria per ridare alla politica tutta credibilità. Che segnali arrivano dalla Calabria rispetto alle prossime amministrative? Sono dei segnali ancora preoccupanti di fronte ai quali credo che gli organismi preposti al controllo dovranno tenere gli occhi bene aperti.